Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Via libera della giunta capitolina le nuove linee guida per lo svolgimento del servizio car e scooter sharing a flusso libero. Le nuove regole saranno in vigore entro la fine di aprile. Tra le principali novità il perimetro di esercizio entro il quale si possono prelevare e parcheggiare veicoli che può comprendere anche aree esterne al grande raccordo anulare. Oggi pomeriggio a partire dalle 15 corteo in centro da piazza dell'Esquilino a piazza Madonna di Loreto nei pressi di piazza Venezia. Fino alle 18 circa possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 13 linee del trasporto pubblico.